Scusate, mi sono addormentato mentre stavo leggendo questa critica. Io vorrei sapere, vorrei chiedere il vostro parere, state a sentire bene, è un po' noiosetta secondo me, ma un pochino. L'universo espressivo dell'artista, prendo le finalità, ha trovato caratterizzazione in un processo individuale di evoluzione costante dei propri paradigmi, mirando l'invidudazione di un di bellezza inteso non in termini esclusivamente estetici, quanto quale summa di elementi diversi armoniosamente concertati, metrica tonale, gesto performativo, radicalità dei materiali e musicalità linguistica. Cosa hai voluto dire? Grazie a tutti.